E chissà con quale dolce ha festeggiato ieri i suoi 60 anni Giorgio Gaber. Amici e familiari gli hanno preparato una riuscitissima festa a sorpresa al Lirico di Milano. C'eravamo anche noi. No, non me lo aspettavo assolutamente. Io dovevo andare a mangiare con i miei, con mia moglie, mia figlia. E mi sono trovato questa cosa enorme, bellissima. Sono molto contento, veramente, 60 anni una volta. Che cosa gli aveva detto? Andiamo a mangiare in un ristorante. Quindi io non sapevo, dicevo, un ristorante nuovo, molto carino. Ho cercato di rassicurarlo perché era un po' diffidente. Diceva, ma perché dobbiamo andare a mangiare là? Ma poi che ristorante è che non lo conosco? Ristorante grande. Non mi piacciono i ristoranti. Insomma, poi alla fine, eccolo qua. Questa è un'idea di Paolo Dal Bonna, che è l'organizzatore degli spettacoli di mio papà. E però anche la figlia. E' una buona. Sì, diciamo che ho contribuito sulla tempistica. Ho dato una mano per quello che potevo, diciamo, sincronizzate con i telefoni, con mia mamma. Io avevo detto che voleva che io stessi vivo per potergli dare sempre del cantrone. Era un'idea di più. Questo è bellissimo. No, gli avevo detto anche... Sarà bello anche tra 60 anni perché quando parla Gaber è sempre bello. Che cosa regala Gadler a Giorgio Gaber? Il regalo è ignobile, gliel'ho lasciato di là. È la cassetta con tutti i suoi interventi a Pinocchio. Che sono la gemma e sono il regalo che lui ci ha fatto. Anche Cristina Parodi in questa festa sorpresa a teatro. Cosa possiamo dire a Giorgio? Ma di passare altri 60 anni così meravigliosi. Di regalarci ancora tante emozioni come ha fatto. Credo che sia veramente uno degli artisti più profondi, ma nello stesso tempo più simpatici che ci sono. Che abbiamo in Italia. Fra gli invitati anche Giorgio Gori. Io sono un grandissimo ammiratore di Giorgio. Poi ho la fortuna di lavorare con Dalia che è sua figlia. È l'uomo più dolce, più intelligente che abbia mai conosciuto. E che ha la voce più erotica. Continui a volare alto. Aiutando le persone con la sua arte a passare dal confine all'orizzonte. Questo è l'augurio che gli ho sempre fatto e che in questo momento in particolare gli dedico.